Musica Musica Un mancato fischio probabile dell'arbitro Palla biega Joseph Bled dall'altra parte cerca di entrare Si ferma lo scarico per Ryan Spinta a tiro da tre Si punta in fondo a sinistra Si appoggia Ne mette due d'autore Vlada Bertetti si incarica di prendere la rimessa L'uscita dai blocchi di Blair Che entra subito dentro Non fa una finta Non se la sente di tirare Lo scarico per Rajac Lui se la sente La piazza subito Trova del pallone Si buttano i giocatori di Torino Poi alla fine recupera Rajac Che di nuovo punta il suo uomo Va di nuovo a sinistra Di potenza Stubisce il contatto Segna due punti Lunè C'è stato subito un cambio Nel file di Torino Non c'è di numero 4 Dips E numero 9 6 marrone Lo scarico per Musla Tre Adesso il numero 26 Benvenuti Non va la sua bomba Rimbalzo di Ricky Bassi Apertura per Vlada Rajac Porta su palla Vuole giocare l'uno contro uno Lo fa Si punta dentro Stavolta di destro Come usa le due mani Vada Rajac Ne mette due E' un'ottima Tutta la mano in pratica Mi permette Tra il numero 1 Da lui Il resto è Flair Porta su fare Lo scarico per Giamma Bertetti C'è il backdoor di Rajac Che backdoor amici Che inizio Di Vladimir Pessimo Hanno fatto delle pessime scelte Offensive In precedenza Lasciando Impunite La pessima difesa E' parte Paragansi Bene ancora con Rajac Prende il fondo Prende di nuovo il contatto Sta Non vince Usa il corpo Alcuma appoggia il vetro Non va Rimbaltone di Rajac Che lancia subito Contro il piede Con un bellissimo No look Per Joe Blair Che appoggia il vetro A due facci Il capitano Joseph Blair D'altra parte Ancora Biella Che ci prova Adesso lo scarico Di Blair Per Rajac Doppia finta Si butta dentro Il tiro Segna Ancora Proprio il numero 27 Maul Che si incarica di prendere il tiro Il tiro è corto Prende solo il primo fello Rimbalzone di Rajac Che guida la transizione Dei biellesi Ancora Rajac Punta l'uomo Va a sinistra Lo sposta Segna Ma Non convalidazione Storino Tanto Biella Si propone in avanti Con Blair Che scarica un endoff Per Rajac Che ancora non si è visto In questo terzo quarto Adesso si butta dentro L'abbiamo appena detto Benvenuti Che ha avuto un ottimo impatto In questo terzo quarto Sbaglia però il tiro Rimbalzone di Rajac Che guida la transizione Dello scarico Un po' sufficiente Per Bassi Tanto Biella Rimette il capo Cantaretto Che ha avuto un buon impatto Nel primo tempo E subito Il canestro Da stocco Tanto rientrano Benvenuti Che ha avuto un ottimo impatto Nell'inizio del terzo quarto E anche il play Musso Per Auxilio Dall'altra parte Arriva Lo stoppone Incredibile Faris fa buona guardia Su di lui Chiude il palleggio Poi spara una palla Nella terra di nessuno C'è solo Rajac lì Guida la transizione Assist Facilissimo Battuto a terra Ragazzi in vantaggio Per Pallacanestro Biale 70-62 8.035 Al termine della partita Lo scarico adesso di Rajac per Faris Che prende bene il centro Cambia mano Appoggia di sinistro Come mi piazza dal fondo C'è Bertetti Pronto alla rimessa Esce Zini La palla dentro Rajacic Vanno a fun Di gara Chiama il gioco Cornalato Lo scarico per Blair Blair vuole giocare Un end-off Con Rajacic Che non arriva Il passaggio Sopra la testa All'indietro Per lei Il taglio Sizzica Che sbaglia Anzi Bertetti Bravissimo Strappaglia il pallone Prova la ciole Con il piede per Rajacic Ma con una mano di destro Dal Tire da tre Più sostanza per lui Biale è andato Perde palle La recupera subito Rajacic Sporna Un altro assist Pesca 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.